Piccoli ma fondamentali passi di un iter burocratico che sarà lungo ma che potrebbe alla fine portare alla realizzazione del nuovo ospedale di Andrea. Un'opera tanto attesa che doterà il territorio della sesta provincia pugliese di una struttura ospedaliera di ultima generazione con 400 posti letto e sarà realizzato in contrada a macchie di rose a ridosso della strada provinciale 2 che collega Corato, Andeccanosa su un'area di 190.000 metri quadri della città federiciana. Lunedì scorso durante il tavolo di verifica interministeriale è arrivato il via libera definitivo al protocollo d'intesa con la regione Puglia per l'accordo di programma sull'edilizia sanitaria da 335 milioni di euro. Questo spiana la strada alla fase operativa. Con la firma di questo protocollo le somme sono praticamente disponibili e non sono più diciamo distoglibili che è la cosa importante perché uno fino a quando non sa come deve pagare un'opera diciamo chiaramente c'è sempre il patrima d'animo specialmente in questi tempi che lo Stato ha bisogno di soldi e magari li distrae da una parte e li mette da un'altra. Chiaro quindi questo passaggio è particolarmente importante. Adesso si vedrà di accelerare di più il protocollo possibile questo a livello regionale. Ed è lo stesso consigliere regionale Sabino Zigni a spiegare che al momento è difficile ipotizzare già con certezza dei tempi di realizzazione ma la fase operativa è già in atto almeno per quanto riguarda la progettazione. Il 5% del totale infatti è stato già impegnato dalla regione Puglia in favore delle ASL e l'azienda sanitaria della Batta ha già messo in piedi la gara per la progettazione da 10 milioni di euro. Qualche piccolo inevitabile ritardo per l'emergenza Covid-19 ma la gara è stata ugualmente espletata e sono giunte le diverse proposte che ora sono al vaglio degli uffici competenti. La ASL-BT ha fatto il bando per la progettazione, sono state presentate le offerte, credo che prossimamente si apriranno le buste per verificare le offerte e aggiudicare. Ma è come in questo momento la sanità pubblica ha acquisito un valore decisamente crescente come ricorda Sabino Zigni, sanità pubblica che nella Batta potrebbe colmare un vuoto atteso da moltissimi anni. Abbiamo capito tutti che senza la sanità pubblica non si va da nessuna parte, i paesi che non ce l'hanno piangono amaramente, vedi il Brasile in questo momento ma vedi prima gli Stati Uniti, ancora in parte gli Stati Uniti, vedi la Gran Bretagna, quindi un sistema pubblico universalistico come il nostro, tra tante cose brutte che ci diciamo possiamo vantarcelo e lo dobbiamo rafforzare in ogni modo.